Federico Peli, miglior giocatore di eccellenza della passata stagione, una stagione fantastica ovviamente, stravinto il campionato. Ti aspettavi anche un riconoscimento di questo tipo a livello individuale? Ma sinceramente no, perché per il fatto che sono arrivato a dicembre, quindi magari meritavano il premio i giocatori che hanno fatto tutta la stagione. Però sono comunque molto contento perché da quando sono arrivato comunque ho sempre giocato, ho sempre fatto molto bene e alla fine mi è stato dato il riconoscimento, quindi sono molto contento. Un fotogramma particolare, un ricordo speciale che porti con te di quei mesi, gli ultimi mesi, quelli decisivi in cui avete vinto quel campionato? Sicuramente quando abbiamo vinto a Darfo e l'esordio, avevo già fatto l'esordio che ero entrato dopo 20 minuti però avevo fatto solo un allenamento, quindi esordio vero l'ho fatto contro il Rovato che ho fatto subito doppietta, quindi magari come partita che mi ricordo di più, quella anche perché avevo giocato a Rovato qualche mese, quindi ero un ex. Quest'estate hai cambiato maglia, ora sei al cast Brescia, le ambizioni sono più o meno le stesse perché a detta di tutti siete i favoriti per vincere il campionato, come è iniziata, giusto fare scongiuri, come è iniziata e come vivete questo ruolo appunto di favorita? Ma noi siamo tutti giocatori molto tranquilli, ci divertiamo ad andare al campo, andiamo anche prima, facciamo gruppo, siamo molto sereni e questo secondo me si vede anche in campo perché poi quando durante la partita c'è il momento difficile, se ti manca quello poi fai fatica. E per ora abbiamo dimostrato che nelle prime tre partite, con tre belle vittorie, che abbiamo le potenzialità per star davanti. Il campionato è lunghissimo e poi vedremo come andrà. Innanzitutto siamo partiti bene e cercheremo di continuare così. Miglior giocatore in eccellenza, terzo nel podio del miglior giocatore assoluti. Che dedica c'è per questi bei traguardi che stai ottenendo? Una dedica speciale ai miei genitori perché mi seguono sempre e quindi va a loro.